Per il primo classificato formatori professionisti, laboratorio creativo, Accademia del Benessere. Accogliamolo con un applauso. Il laboratorio è questo, un insieme di persone eterogenee che lavorano in reparti diversi delle aziende che si mettono insieme per produrre un benessere maggiore attraverso soluzioni. Adriano Olivetti è un grande punto di riferimento per me perché è stato un uomo del Novecento che ha segnato un momento storico importante, ha portato bellezza e benessere in tempi assolutamente lontani da quelli che sono i nostri. Queste sono parole che noi sentiamo risuonare, le possiamo condividere ma non le abbiamo ancora vissute come lui intendeva, portarle nelle organizzazioni, portarle nella realtà aziendale e nel contesto del territorio. Quello che provo a fare nel mio piccolo mondo con un gruppo di imprenditori è proprio quello di cercare di portare sì la filosofia di base di Adriano Olivetti ma rilevare dei talenti, rilevare delle eccezioni, rilevare delle eccellenze nelle persone che si meritano questo e che non hanno l'opportunità di farlo. Quindi grazie anche ai nostri progetti, al laboratorio creativo, alle varie azioni e varie attività che facciamo nelle aziende, un piccolo pezzo di Adriano Olivetti speriamo di portarlo. Grazie davvero a tutti coloro che mi hanno supportato e seguita. Grazie.